Grazie per la visione! La facciamo con un ospite d'eccezione a cui lascio la parola, la Pina! Ok, so che io non metto tanta sicurezza, invece stasera sono qua per imparare. Se buco la gomma, cosa faccio? Seguimi! Andiamo! Prima di tutto, dove ho bucato, Nando? Facciamo finta che hai bucato questo! Ah, ok! No, almeno già saperlo è buona! Cric! È questo! Fammelo vedere! Lo so perché delle volte l'ho usato per difendermi! Bravo, ecco! Ciao! Ciao! Grazie a tutti.